Incidente stradale questa mattina a San Pietro Altanagro, due auto, una BMW condotta da un 30enne e una Citroen con a bordo una 60enne, per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate in via della Sorgente. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un trattore che transitava in direzione San Rufo, condotto da un ragazzo del posto. Sul posto si sono prontamente portati i carabinieri della stazione di Polla che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente, pare che a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia, il giovane a bordo della BMW abbia perso il controllo del veicolo andando a scontrarsi con la Citroen che in quel momento si stava immettendo sulla strada. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure, solo per la signora si è però reso necessario il trasporto presso l'ospedale di Polla per accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni però non destano particolari preoccupazioni.